intervista intensa a tratti lancinante commovente quella che federico fashion style al secolo federico lauri ha consegnato a silvia toffanin che lo ha avuto ospite nella puntata di verissimo in onda domenica 23 gennaio 2022 il parrucchiere dei vip si è raccontato a ruota libera spiegando che il successo che ha avuto è stato frutto l'ex concorrente di ballando con le stelle si è anche soffermato sulle critiche e i mugugni che lo investono da tempo in molti lo accusano di essere gay non dichiarato nonostante abbia una compagna da 15 anni letizia con la quale ha avuto una figlia nel 2017 sofima e mio padre non voleva che facessi il parrucchiere lo vedeva come un lavoro femminile figurati lui tra camion e ruspe ma ora è il mio primo fan così ha esordito lauri che ha poi ascoltato un videomessaggio dolcissimo che gli ha spedito suo papà che in una lettera commuovente gli ha chiesto scusa per non aver subito creduto in lui federico è esploso in lacrime per me non esiste che mio padre mi chieda scusa è la mia famiglia ha chiosato mostrando forte affetto ed empatia verso la figura paterna spazio poi ad una chicca silvia toffanin ha lanciato una clip d'epoca in cui si è visto un giovanissimo e sbarbato lauri 18 n mentre si cimentava ad un provino del grande fratello imbarazzo in studio orrendo mamma mi aiuto il commento di fashion style che ha aggiunto che il suo sogno era quello di partecipare al reality vincerlo e poi aprire un salone a milano al gf non partecipò ma il suo sogno lo coronò comunque grazie alla caparbietà e la padrona di casa di verissimo gli ha poi rivolto una domanda diretta come vivi le critiche sulla tua identità sessuale in modo sereno ha evidenziato lauri nel 2022 una persona non deve giustificarsi per le proprie scelte per cosa fa a letto io ho una compagna e una figlia mi scivola addosso tutto ci rimango male quando viene messa in discussione la mia famiglia a soffrire ogni tanto è letizia lei mi conosce da 15 anni e mi conosce per come sono quando arrivano però critiche su mia figlia lì ci resta male poi lei è abituata se dicono gay etero etici è a silvia toffanin ha poi rivolto un'altra domanda diretta al parrucchiere più famoso d'italia ricevendo una risposta da applausi poi essendo tu così libero se lo fossi gay ndr non avresti problemi a dirlo giusto ma figurati siamo nel 2022 è veramente terribile questa cosa la conduttrice ha tenuto a rimarcare che ognuno può amare chi gli pare libertà totale